Allora, nel corso mi è piaciuto che la Divine Connection mi ha gasata un casino, carino, è stata una bella esperienza, mi sono sentita bene, è stata comunque positiva, cioè un'esperienza positiva e la rifarei. Lo consiglierei più che perché mi verrebbe da dire a chi, quindi a tutte quelle persone che hanno voglia di lavorare su loro stesse, hanno degli obiettivi e cercano un aiuto, una mano o anche solo una spinta per poterli affrontare e realizzare. Ho lavorato su un aspetto di me, su cui sto già lavorando da un po' personalmente, su me stessa e mi ha aiutato ulteriormente ad affrontarlo e a liberarlo. Basta, poi mi ha fatto capire che devo proseguire ancora di più su quello che ho in mente per il mio futuro. Ciao Patrizia, grazie per questa bellissima esperienza, è stato un piacere conoscerti, sei una persona fantastica, gioiosa e mi risuona perché mi piacciono le persone così. Grazie a tutti.